Ciao a tutti ragazzi, eccoci oggi con un nuovo video, ragazzi ancora siamo qui su Yu-Gi-Oh! Duel Links e ragazzi finalmente siamo qui con la decklist che ci servirà per farmare il nostro Marik a livello 40 e fare 8000 punti se non di più ovviamente ci ho messo qualche giorno ma più che altro perché non è stato complicatissimo trovare il metodo per fare questa decklist ma più che altro un po' il tempo ultimamente lo sapete mi dovete perdonare comunque prima di partire come al solito dobbiamo fare dobbiamo vedere i commenti che ci sono stati fatti nello scorso video allora il primo a commentare come potete ben vedere è stato Giorgio Simonini che io ringrazio tantissimo e il secondo è stato Senzanome che anch'esso ringrazio tantissimo Giorgio mi hai fatto ben due commenti e per questo ti ringrazio solo che ne posso far vedere solo uno come avevo già anticipato nello scorso video allora ho scelto il secondo che mi hai fatto perché così come dicevo nello scorso video appunto mi siete stati molto utili e questa cosa è servita perché nello scorso video io parlai dicendo che l'abilità di Marik era 100 punti li perdo io 200 lui poi 300 io eccetera eccetera perché l'avevo affrontato una sola volta e non avevo ancora capito qual era la sua abilità e tu giustamente nel tuo commento mi hai scritto poi l'abilità di Marik è la seguente durante l'end pace il giocatore di turno subisce danni pari alle carte che ha nel cimitero per 100 esempio 7 carte al cimitero uguale 700 left points di danno mentre ragazzi il secondo commento che mi è stato fatto da Senzanome che ovviamente è anch'esso utilissimo il commento dice comunque hai dimenticato l'aggiornamento dei replay che dà 5 gemme esatto ragazzi meno male che mi è stato ricordato perché mi ero dimenticato di dirlo come potete ben vedere ragazzi qui abbiamo una televisione e qui abbiamo delle carte se clicchiamo su queste carte qui ci farà andare su youtube a vedere un video visto cioè non c'è bisogno di vederlo tornato nel gioco avremo 5 gemme mentre questo qui ci farà vedere un replay di una partita dal gioco e ci darà 5 gemme quindi introduzione molto carina molto buona per farmare qualche gemma in più e quindi 10 gemme al giorno ogni 5 giorni ci apriamo una bellissima bustina quindi ragazzi come vedete questo metodo mi piace tanto perché riesco sia a ringraziare i miei iscritti più attivi che commentano e che sono appunto attivi sul canale sia riesco a diciamo così a completare qualcosa che non riesco tipo dimenticandomi o cose del genere quindi veramente vi ringrazio a entrambi per i commenti così come ringrazio a tutti coloro che hanno sempre commentato passiamo velocemente quindi alla decklist come al solito usiamo Thea e questo deck è basato sempre sulla sua abilità guardia sacra che ancora una volta per chi non lo sapesse ci impedisce di subire danni nel nostro turno quando attacchiamo con un mostro e questa cosa va in combo con la ragazza infelice che quando attacca o viene attaccata e lei resta in posizione di attacco blocca i movimenti del mostro avversario e non può fargli cambiare né posizione né attaccare quindi praticamente ci ritroviamo in una situazione di stallo veramente veramente ottima io gioco il 2x anche perché proprio in questa decklist il 3x sarebbe proprio pesante poi il 3x però di Raimei che ci serve comunque per sterciarla e per assicurarci che al primo turno noi abbiamo o la ragazza o almeno Raimei per prendere quindi abbiamo queste prime 5 carte poi sempre come mostri ovviamente metto un drago nero occhi rossi e una pecora mistica ma pecora mistica la potete sostituire con qualsiasi altra carta mostro che vi permetterà di renderla un materiale da fusione insieme a drago nero occhi rossi per formare drago nero meteora che è un 3.500 che ci servirà per la combo finale per la combo che ci porterà invece a fare gli 8000 punti d'anno abbiamo sempre e comunque il vassallo custodio di tombe assecondato dall'attacco unione il 2x e ovviamente dal passaggio segreto per il tesoro che ci permetterà di attaccare direttamente in più abbiamo sempre ovviamente il cancello della fusione che ci permetterà di fare la fusione e contro Maric la cosa bella è che lo potete giocare perché non avrà carte per distruggervelo e poi giochiamo un po' di carte che ci velocizzano il tutto visto che non possiamo perdere troppi turni a causa della sua abilità come abbiamo ampiamente visto quindi due perdi scheggia dell'avidità ma potremmo anche giocare nel 3x levando giara della cupidigia però io al momento sto giocando due schegge e una giara e vi dico che comunque mi sto trovando molto molto bene come carte difensive invece giochiamo un windstorm che comunque ci assicura un intero turno il controllo avversario che però ragazzi lo potete sì utilizzare come carta da difesa ma a quel punto non riuscirete più a fare gli 8000 punti di danno visto che questo qui l'ho messo proprio per poter prendere il mostro di 3000 punti del nostro avversario e quindi fare i danni necessari e poi abbiamo il 2x di lancia incantata perché lancia incantata ci servirà quando appunto lui giocherà il suo bestione da 3003 e attaccherà la nostra ragazza infelice e noi abbiamo assolutamente bisogno di lancia incantata se no perderemo infatti all'inizio ho perso varie partite proprio per questo per concludere l'ultima carta tempesta che ci servirà per distruggere entrambe le ruote incubo che giocherà coperte il nostro avversario e noi gliele spaziamo via già solo attivando tempesta perché con tempesta avremo sicuramente cancello della fusione sul terreno e un'altra di tutte queste carte la terremo quindi non abbiamo assolutamente problemi ok ragazzi io come al solito a differenza di molti youtuber su youtube appunto vi passo sempre a mostrare le partite però questa volta ragazzi voglio farvi vedere un replay che ho fatto dove insomma ho utilizzato questo deck e sono riuscito insomma a fare il punteggio questo perché? perché ho notato che comunque si vi parlai dei replay ma non ve li ho mai fatti vedere realmente eccoci qua ragazzi allora andando sulla selezione modalità diciamo così dove stanno le classificate scendendo giù abbiamo replay duelli noi cliccando qui possiamo vedere appunto i nostri ultimi replay che abbiamo scelto appunto di mettere nei replay e questo lo si può fare solo a fine duello qui abbiamo Thea Gardner verso Yami Marik quindi la clicchiamo e andiamo ad analizzarla insieme non ricordo ma mi sembra che potevo anche aumentare la velocità del video e questo potrebbe essere un'ottima cosa non lo so devo vedere un attimo a dire la verità perché è da parecchio che non vedo un replay su questo gioco eccoci qua allora guardia sacra da parte nostra e gioco delle ombre da parte di Marik ok questa è la mano iniziale ci è capitata per fortuna la ragazza infelice che giochiamo immediatamente e terminiamo il turno perché non abbiamo bisogno di niente lui gioca come abbiamo già analizzato mostri di tipo normale noi posizioniamo la lancia e attacchiamo ma non vi preoccupate che la lancia non ci servirà almeno per 5-6 turni quindi sì buono che c'è uscita ma veramente indifferente quindi vedete basta avere una ragazza infelice e noi veramente per 4-5 turni stiamo senza problemi attiviamo scheggia dell'avidità che ci permetterà appunto di velocizzare il tutto ma il mio più grande consiglio ragazzi è di non utilizzare subito le carte perché se no andranno al cimitero infatti qui vedete io non attivo l'effetto di scheggia anche se è di livello già 3 perché perché se no manderei troppe carte al cimitero e lui mi infliggerebbe comunque troppi danni la ragazza Raymail l'ho attivata perché perché così ho potuto serciare e sfoltire una carta che probabilmente avrei potuto pescare poi sì ho dovuto scartare perché avevo già troppe carte in mano ma purtroppo l'ho dovuto fare e comunque sto subendo solo 200 punti ogni turno ma pensate che se facevo scheggia dell'avidità comunque passati 3 turni già avevo subito 300 punti in più e non è una cosa da poco ve lo assicuro infatti verso la fine ve ne accorgerete arrivato a questo punto avendo troppe carte ho attivato l'effetto infatti guardate quante carte ho dovuto comunque scartare al cimitero 5 carte subisco ben 500 punti questo è quello che vi dicevo lui attiva Death Guardius ci attacca e praticamente avevamo perso il duello perché ci avrebbe attaccato anche con il 1.400 ma grazie alla lancia siamo riusciti a difenderci e ragazzi avendo due lance cioè a questo punto del gioco almeno una l'avete pescata sempre 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 quindi riusciamo a stallare ancora una volta tutti i suoi mostri e vi assicuro che dopo che gioca il 3.300 non ha più niente da giocare queste due carte coperte sono due ruota incubo che noi butteremo giù con la nostra tempesta e quindi il gioco è fatto dobbiamo semplicemente gestirci bene i life points ed evitare di mandare troppe carte al cimitero infatti qui ho attivato una scheda di vita che ci ha permesso vedete di velocizzare la parte finale ho pescato tutte le carte avevo ben 7 carte al cimitero attivo l'effetto della carta terreno facciamo la fusione distruggiamo la ragazza infelice ci prendiamo il suo 3.300 attiviamo tempesta lui attiverà appunto le due ruota incubo che gioca su va bene i nostri mostri ma grazie a tempesta le possiamo distruggere ugualmente distrutto tutto ci rimane solo da fare la nostra combo quindi vassallo passaggio per il segreto e doppio attacco unione il nostro mostro dovrebbe arrivare intorno ai 14.000 attaccare diretto e portarci a casa un bel 8100-8200 punti e quindi il massimo dei punti che possiamo ottenere quindi ragazzi il deck funziona è veramente buono ci ho messo un po' per mettere insieme tutte le sinergie delle carte studiando il deck avversario ovviamente non lo troverete da nessun'altra parte questo deck sul web visto che l'ho fatto esclusivamente io così come tutti gli altri deck che porto sul canale tranne se qualche volta ho qualche problema ma ve l'ho sempre detto nei video ma comunque non mi sembra che sia successo quindi ragazzi questo è il deck mi raccomando se potete fatelo provatelo e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate se vi è piaciuta la decklist o se apporteresse qualche modifica ricordatevi che nel prossimo video ci potrebbe essere il vostro commento solo i primi due che commenteranno avranno l'opportunità di mostrare i propri commenti nel video successivo e quindi ragazzi come al solito vi ringrazio mi raccomando iscrivetevi commentate condividete questo video se il video vi è piaciuto lasciate un like e noi ci vediamo con il prossimo bella raga